nato da donna quando nella pienessa del tempo dio si è fatto uomo non è venuto nel mondo più mamando da alto dei cieli è nato da maria non è nato in una donna ma da una donna essenzialmente diverso vuol dire che dio ha voluto prendere la carne da lei non l'ha usata ma ha chiesto il suo sì suo consenso e con lei ha cominciato il lento cammino della gestazione di un'umanità libera dal peccato e piena di grazia e di verità piene d'amore e fedeltà un'umanità bella buona vera a immagine e somiglianza di dio eppure intessuta con la nostra carne offerta da maria mai senza di lei sempre con il suo consenso nella libertà nella gratuità nel rispetto nell'amore e questa è la via che ha scelto dio per entrare nel mondo per entrare nella storia questo è il modo e questo modo è essenziale essenziale quanto il fatto stesso di essere venuto la maternità divina di maria maternità virginale virginità feconda è la via che rivela l'estremo rispetto di dio per la nostra libertà lui che ci ha creato senza di noi non vuole salvarci senza di noi questo suo modo di venire a salvarci e la via sulla quale pure invita noi a seguirlo per continuare insieme a lui a tessere l'umanità nuova libera riconciliata questa è la parola umanità riconciliata è uno stile un modo di relazionarsi con noi da cui derivano le molteplici virtù umane di una convivenza buona dignitosa una di queste virtù è la gentilezza come stile di vita che favorisce la fraternità e l'amicizia sociale e parlando della gentilezza in questo momento il pensiero va spontaneamente al carissimo papa emerito benedetto sedicesimo che questa mattina si è lasciato con commozione ricordiamo la sua persona così nobile così gentile e sentiamo nel cuore tanta gratitudine gratitudine a dio per averlo donato alla chiesa e al mondo gratitudine a lui per tutto il bene che ha compiuto e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata solo dio conosce il valore la forza della sua intercessione dei suoi sacrifici offerte per il bene della chiesa questa sera vorrei riproporre la gentilezza anche come virtù come virtù civica pensando in particolare alla nostra diocesi di roma la gentilezza è un fattore importante nella cultura del dialogo e il dialogo è indispensabile per vivere in pace per vivere da fratelli che non sempre vanno d'accordo è normale ma che però si parlano si ascoltano e cercano di comprendersi e di venirsi incontro pensiamo solo a che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità il dialogo perseverante coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio ebbene la gentilezza fa parte del dialogo non è solo questione di galateo non è questione di etichetta di forme galanti no non è questo che intendiamo qui parlando di gentilezza si tratta di invece una virtù da recuperare ed esercitare ogni giorno per andare contro corrente e umanizzare la nostra società i danni dell'individualismo consumista sono sotto tutti gli occhi e il danno più grave è che gli altri le persone che ci ricondano vengono percepiti come ostacoli alla nostra tranquillità alla nostra comodità gli altri ci scomodano ci disturbano ci tolgono tempo e risorse per fare quello che ci piace la società individualistica consumistica tende ad essere aggressiva perché gli altri sono dei concorrenti con cui competere eppure proprio dentro queste nostre società e anche nelle nostre situazioni più difficili ci sono persone che dimostrano come sia ancora possibile scegliere la gentilezza e così con il loro stile di vita diventano stelle immesso dell'oscurità san paolo nella stessa lettera ai galati di cui è trattata natura di questa liturgia parla dei frutti dello spirito santo e tra questi ne menziona uno con la parola greca ecco è questo che possiamo intendere per gentilezza un attesciamento benevolo che sostiene e conforta gli altri evitando ogni asprezza e durezza un modo di trattare il prossimo facendo attenzione a non ferire con le parole o con i gesti cercando di alleggerire i pezzi altrui di incoraggiare, di confortare, di consolare senza mai umiliare, mortificare o disprezzare la gentilezza è un antidoto contro alcune patologie delle nostre società un antidoto contro la crudeltà che purtroppo si può insinuare come un veleno nel cuore e intossicare la relazione un antidoto contro l'ansietà e la frenesia distratta che ci fanno concentrare su noi stessi e ci chiudono gli altri queste malattie della nostra vita quotidiana ci rendono aggressivi ci rendono incapaci di chiedere permesso oppure scusa o dire semplicemente grazie le tre parole così umane della convivenza permesso scusa grazie con queste tre parole se va avanti nella pace nell'amicizia umana sono le parole della gentilezza permesso scusa grazie ci farà bene pensare se noi li usiamo spesso nella nostra vita permesso scusa grazie e così quando per la strada o in un negozio o in un ufficio incontriamo una persona gentile rimaniamo stupiti ci sembra un piccolo miracolo perché purtroppo la gentilezza non è più molto comune però grazie a Dio ci sono ancora persone gentili che sanno mettere da parte le proprie preoccupazioni per prestare attenzione agli altri per regalare un sorriso per regalare una parola di incoraggiamento per ascoltare qualcuno che ha bisogno di confidarsi e di sfogarsi cari fratelli e sorelle penso che recuperare la gentilezza come virtù personale e civica possa aiutare non poco a migliorare la vita delle famiglie né le comunità, né la città per questo guardando al nuovo anno della città di Roma vorrei augurare a tutti noi che la abitiamo di crescere in questa virtù la gentilezza l'esperienza insegna che essa se diventa uno stile di vita può creare una convivenza sana può umanizzare i rapporti sociali sciogliendo l'aggressività e l'indifferenza guardiamo all'icona della Vergine Maria oggi e domani qui nella Basilica di San Pietro possiamo venerarla anche nell'effigie della Madonna del Carmen Davigliano presso potenza non diamo per scontato il mistero della maternità divina lasciamoci stupire dalla scelta di Dio che avrebbe potuto apparire nel mondo in mele modi mostrando la sua potenza invece ha voluto essere concepito in piena libertà nel grembo di Maria ha voluto formarsi per nove mesi come un bambino e infine nasce da lei nascere da donna non passiamo oltre velocemente fermiamoci a contemplare e a meditare perché qui c'è un tratto essenziale del mistero della salvezza e cerchiamo di imparare il metodo di Dio e il suo infinito rispetto per così dire la sua gentilezza perché nella maternità divina della Vergine c'è la via per un mondo più umano grazie a tutti 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 grazie a tutti